Il grande tennis arriva all'Aquila con la TP Challenger Tour all'Aquila, oltre i 60 giocatori in città tra i primi 200 del ranking mondiale. Ci saranno Paolo Lorenzi, Roberto Carballes, Baena, Tiago Monteiro, Rogero Dutrasilva, Delinugo e altri campioni. Le stelle che saranno in città per gli internazionali di tennis città dell'Aquila. Il torneo, inserito appunto nell'ATP Challenger Tour, che si svolgerà sui campi del circolo più antico d'Abruzzo, il Peppe Verna, dal 16 al 24 giugno. È la prima volta che la città ospita un appuntamento ATP Challenger, un circuito di tornei internazionali maschili studiati per consentire a giocatori di seconda fascia di acquisire un ranking sufficiente per accedere ai tabelloni principali o di qualificazione dei tornei ATPT World Tour 250 Series o ATP World Tour 500 Series. Dal 2009 hanno sostituito l'ATP Challenger Series. La presentazione si è svolta all'Aquila alla presenza dell'assessore regionale al bilancio allo sport Silvio Paolucci, del consigliere regionale Pietrucci, del vicesindaco dell'Aquila Liris, del consigliere della fitta Abruzzo Gofrasca, del presidente del Cogna Abruzzo Azioi Passaro e del presidente del circolo tennis dell'Aquila Ezio Reinaldi, oltre a rappresentanti della Meft Tennis Events, la società a cui la Federazione Italiana Tennis ha affidato il compito di organizzare appunto i tornei ATP Challenger. Nel tabellone principale del torneo ci saranno oltre 60 giocatori fra i primi 200 del ranking mondiale per un monte premi di 50.000 dollari più ospitalità. La testa di serie numero 1 sarà l'italiano Paolo Lorenzi, toscano, attualmente numero 74 del ranking ATP e quarto italiano nel ranking mondiale. Numero 2 lo spagnolo Roberto Carbella Sbena. Anche questa, detto il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci, una grande occasione per la città dell'Aquila. Grazie. Grazie.